ok benvenuto sul mio canale oggi vediamo come invertire il passeggino pet bergo e non so il kit esatto qual è comunque questo il modello abbiamo fatto 6 7 mesi senza sapere come si invertiva ok praticamente per smontarlo vanno tirate insieme queste due vanno tirati giù questi questo levetta di sicurezza e in più va tirato su la leva sotto prima la leva sopra e poi quella in contemporanea vanno tolte entrando il passeggino già è invertito però noi abbiamo fatto praticamente sei mesi così allora mettendolo dritto come tutti quelli che stanno vedendo il video sto facendo praticamente si incastra in questa si incastra in questi due ganci che quando vanno su questo ferro si vanno a incastrare mentre per metterlo girato bisogna incastrare questi altri ganci questo e questo e non più questi qua perché incastrando questi il passeggino il seggiorino non si incastra sulla base ma adesso guardate come si incastra su questi due ganci basta posizionare il gancio posteriore alla parte dietro e come vedete lo spazio qui dietro sarà solo questo qui adesso vado ad incastrare ok vedete il passeggino è bello solido e incastrato adesso se lo voglio girare ritiro entrambe le leve e vado ad incastrare non più su questa parte posteriore ma devo incastrare sulla parte centrale il passeggino è incastrato quindi ripetiamo per in per girare il passeggino basta staccarlo e di incastrare la parte estrema qui queste due questi due incastri il passeggino è invertito ok spero che questo video tutorial ti sia utile a me è stato utile a me è stato utile cercarlo su internet quindi lo voglio riproporre a voi sperando che vi sia utile se vi sia utile lasciate un like ed iscrivetevi al canale ciao